Ciao ragazzi, oggi parliamo di una notizia negativa proveniente direttamente dal Giappone, che già stava circolando negli scorsi giorni e che proprio oggi è praticamente giunta ad una conclusione. L'autore del manga Akteiji, in particolare lo sceneggiatore perché c'è anche una disegnatrice, è stato praticamente accusato per atti molesti verso gli adolescenti. Questo manga di Shonen Jump, che ha ricevuto molto successo e che tuttora ne sta ricevendo sempre di più, avrebbe dovuto ricevere anche un adattamento animato, che ora come ora direi che verrà sicuramente cancellato. Perché dico questo? Perché l'autore è stato praticamente arrestato dopo questa vicenda. La casa elettrice del manga, la Shueisha, ha quindi deciso di cancellare la serie e l'ultimo capitolo del manga uscirà quindi proprio domani, 11 agosto, che è praticamente il capitolo 123 e non sarà nemmeno pubblicato sulla piattaforma online Manga Plus, dove praticamente potevate reperire gli ultimi capitoli usciti. E quindi questa serie, nonostante il grande successo, resterà a quanto pare inconclusa a vita. E vi dico che mi dispiace molto, non perché l'abbia già letta, ma perché avevo intenzione di leggerla e anche di guardare l'anime perché mi incuriosiva tantissimo, ma adesso avendo saputo tutto ciò non penso più di farlo. Ma non per quello che ha fatto l'autore, che adesso tutti quanti crediamo essere una brutta persona e magari lo è davvero dopo quello che ha fatto, insomma. Perché chissà quante cose non sappiamo su tanti altri mangaka e in ogni caso sappiamo che in Giappone succedono spesso cose del genere e purtroppo è una società che sotto certi punti di vista è veramente messa male. Sotto altre invece sappiamo essere messa molto meglio di tanti altri paesi come il nostro. Quindi il motivo per cui non voglio recuperarla è semplicemente il fatto che sia rimasta incompleta e purtroppo mi infastidisce moltissimo, non mi va di leggere un'opera così. Fatemi sapere invece voi se avete letto qualche volume, perché in Italia è già uscita ed è anche, ripeto, piuttosto popolare. Sono anche curioso di sapere se continuerete ad acquistarla comunque fino all'ultimo volume che uscirà, anche se proprio resterà incompleta in una maniera assurda, perché non c'era minimamente l'ombra di un finale, probabilmente, cioè l'autore non aveva pensato ad una conclusione del genere. Detto ciò vi ricordo di seguirmi sui vari social che trovate qua sotto in descrizione per stare aggiornati sui vari manga, anime e notizie di questo tipo e quindi noi ci vediamo in un prossimo video.